Per sfuggire ad un controllo dei carabinieri si è gettato da oltre due metri dalla ringhiera alle mie spalle. È stato indubbiamente un altro pomeriggio movimentato, quello di ieri a Saione, quartiere alle porte del centro storico Aretino. Ci troviamo infatti a Campo di Marte. Nella caduta il pusher si è fratturato tibie perone della gamba destra, nonostante ciò ha tentato di rialzarsi e scappare di nuovo, ma è stato raggiunto ed arrestato dai carabinieri. In manette è finito anche un altro spacciatore, entrambi infatti avevano offerto droga ai carabinieri in borghese. Nelle gallerie di Campo di Marte era stato predisposto un servizio composto da militari in uniforme e in abito civile del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Arezzo. Due militari in abiti civili sono stati avvicinati dai due giovani, un 23enne di origini pakistane ed un 25enne nigeriano, entrambi clandestini e senza fissa dimora, che hanno offerto ai carabinieri in borghese alcune dosi di cocaina. I militari hanno così chiesto l'immediato intervento delle pattuglie in uniforme, ma alla vista delle auto dell'arma i due hanno cercato di scappare, il 25enne reagendo violentemente è riuscita a divincolarsi e gettarsi dal parapetto. Per entrambi sono scattate le manette per spaccio di sostanze stupefacenti, per uno dei due anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Uno dei militari intervenuti ha infatti riportato un trauma al polso sinistro. Sequestrati infine 2,2 grammi di cocaina già suddivisa in quattro dosi. Il pakistano è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Arezzo come disposto dall'autorità giudiziaria, mentre il 25enne nigeriano ferito è stato trasferito al reparto di ortopedia dell'ospedale San Donato di Arezzo in attesa di intervento chirurgico.